Ok, eccoci qua all'ultimo capitolo di Dead Space Extraction, stavolta commentato da me. C'è stato detto che c'era il passaggio. C'è stato un po' prima volta, però... Dà lui un call, dovremmo essere preparati quando arriva. Nate? Nate, questo è Lexine. Nate! Come in! McNeil! Oh, Dio... Non, continui a provare. Nate! Where are you? Nate! Come in! Lex! What the hell? That's it! We're getting out of here! Nate? Dr. Heil, Nicole? I won't let them have died for nothing! Shit! Move! In the shuttle! Mediatore! Ecco qua, potenziato al massimo. Meno male che è morto. Sto operatore mi sta sulle balle. Ma che razza da qua è? Cioè, non lo so, mi vomita addosso. Scusa una roba, Lexine. Ma te dove cazzo spari? Sono solo io l'unico qua che colpisce sti necromorfi. Sparami le munizioni, non sbracarle per niente. Sparami le munizioni, non sbracarle per niente. Scusate. allora basta di armonito addosso grande lexine quando è finito sto capito dammi il tuo numero è ciao alla mina aspetta fai arrivare me dall'altra parte oh aspetta fai arrivare come on fermo aspetta ora potenziamento prendilo e vai ma ragia contatto al massimo meno male vabbè tanto non lo uso neanche raggiacontatto la usm valor localizzata allora ma vabbè l'audio l'audio degli audio lo che non si sente perchè fanno partire il bigl lo fanno partire sui su telecoma della wii e telecoma l'audio del telecoma della wii non lo recito per cui ovvio che non si sente vedono soltanto i sottotitoli un ultimo culo volante ucciso anche in questo ho capito le culi volanti porca miseria che sarà prendere il caffè col capitano va oh dio oh dio ucciso ok come stai? arriviamo da qui just hold them off and keep a look out for McNeil Guarda a saltarmi addosso Eh che ti bruciò con la faccia Eh che ti bruciò con la faccia Eh che ti bruciò con la faccia